parliamo di colpo della strega un buono stile di vita e prevenzione migliore per il tuo mal di schiena non avere paura di sollevare pesi ma quando sollevi pesi sfrutta la forza delle gambe non fare movimenti di torsione mantiene il peso più vicino possibile al tuo baricentro suddividi pesi in porzioni più piccoli e se viene il mal di schiena non avere paura di muoverti ma fatti guidare dal dolore la buona notizia è che dopo pochi giorni il dolore diminuirà e potrai tornare gradualmente a fare tutto quello che facevi prima quindi non metterti a riposo assoluto il riposo assoluto non cura la lombalgia acuta ma anzi tende a farla cronicizzare cerca le posizioni antalgiche ovvero quelle in cui non senti dolore cambia spesso posizione muovendoti da sdraiato in piedi e viceversa ovviamente non sollevare i pesi almeno nella fase acuta superata la fase acuta potrai di nuovo sollevarli anzi ti dirò di più la colonna è un sistema complesso che ha bisogno della forza di gravità per mantenersi in buona salute e quindi impara a sollevare i pesi correttamente le possibili cause della lombalgia acuta possono essere molteplici e non sempre la causa nella colonna vertebrale il fisioterapista può aiutarti a gestire la fase acuta e insegnarti a muovere la colonna in sicurezza preveniamo il mal di schiena noi ci siamo